Il giorno 22 marzo 1950 Castellammare di Stabbia perse uno dei suoi più illustri ed appassionati concittadini, Raffaele Viviani. La storia narra che la sua ultima frase fu Poche ma incisive parole che permettono di capire che, anche in quel momento di dolore, l'appartenere ad una città è il sentirla propria. Vuol dire che si è instaurato con essa un rapporto sinergico, simile a quello familiare. Durante la convention tenutasi al supercinema di Castellammare di Stabbia, l'associazione Progetto Stabbia ha voluto proprio ribadire questo concetto espresso tutto nel suo slogan «La città degli Stabbiesi agli Stabbiesi». L'associazione, nel corso della sua breve storia, ha attuato alcuni progetti che erano già stati presentati lo scorso 6 gennaio durante il primo incontro, come l'assistenza sanitaria con test visivi scolastici, occhiali da vista, protesi acustiche, il tutto gratuito, cure odontoriatriche al prezzo del ticket sanitario nazionale, prevenzione del melanoma cutaneo con visita dermatologica a prezzi sociali, ma anche in ambito tecnologico, con il wifi gratuito. Le aree di copertura sono Ponte Persica, Annunziatella, fino a Pioppaino, Piazzetta Sant'Antonio in Viale Europa, la Villa Comunale, dalla Banca Stabbiese alle Giostre. Si avviano anche i lavori del portale turistico e la geolocalizzazione dei punti di interesse. Durante la convention il dottor Pio Donnarumma, presidente dell'associazione Progetto Stabbia, ha presentato le possibili iniziative da realizzare che possono far risorgere la cittadina stabbiese, per rivalutare le sue bellezze naturali ed archeologiche, così da evitare la fuga dei giovani verso altre parti della penisola italiana, alla ricerca di un lavoro. Per fortificare l'intento di migliorare la qualità della vita della città e delle acque, il dottor Donnarumma ha lanciato l'invito alle varie forze politiche e associazionistiche che si forgiano di volere il meglio per la loro città, di stringere un patto di corresponsabilità. Sa di fatto che a tale invito ha risposto solo l'associazione Stabbia Rialzati. Il patto di corresponsabilità voleva essere un atto simbolico per dimostrare quanto le varie compagini politiche credano nelle soluzioni proposte per gli innumerevoli problemi di Stabbia, esponendosi e prendendosi la responsabilità di attuare le promesse della campagna elettorale. Ad alietare la serata, oltre ai bambini di Scanzano, nella fase iniziale, al termine è stato possibile assistere all'emozionante spettacolo di stralci delle commedie del drammaturgo Raffaele Viviani, con la regia di Antonello De Simone e le musiche del maestro Carmine Cascone.